buongiorno ragazzi e benvenuti alla 28esima live del podcast di psinel benvenuti a tutti intanto lanciamo un piccolo applauso benvenuti a tutti è molto divertente avere questi effetti e usiamo un applauso finto che però ci dà un po il senso di compagnia abbassiamolo in questo modo ok spero di averlo fatto bene senza aver fare senza aver fatto danni allora un attimo fa eravamo come sempre in diretta su su instagram scusate questi rumori questo rumore è la mia sedia e come ho già preannunciato su instagram oggi parliamo di medici e di psicoterapia ed è il perché tantissimi medici che sono in giro non credono nella psicoterapia mi è capitato tantissime volte è capitato a me è capitato ai miei colleghi psicoterapeuti e psicologi di sentir dire da parte dei loro pazienti guardi io il mio medico non dice niente sul fatto che io venga da lei però non è che ci creda poi così tanto a quello che lei fa cosa così dice sì no no non prendere l'antibiotico non ci credo che il medico che è vero buongiorno a cash benvenuto allora come non ci credo che il medico ha davvero trovato un batterio nel tuo corpo no guardandoti come ha fatto a capire se era un batterio un virus o qualcos'altro insomma ragazzi parliamo di questa annosa diatriba che in realtà non è così troppo una diatriba in realtà fa parte solo di poche persone e infatti per prima cosa bisogna dire che i medici fanno un lavoro sacro santo che la nostra disciplina arriva e deriva anche dalla medicina anzi fa parte della medicina la psicoterapia in particolare è che quel lavoro è davvero molto difficile ed oggi è super super ostacolato il lavoro del medico oggi è super ostacolato se fosse per me io prenderei tutte le risorse economiche le darei ai medici e agli insegnanti ecco giusto per farvi per darvi un'idea perché perché il loro lavoro è davvero difficile li svuota tra virgolette perché hanno delle responsabilità enormi che sono la nostra vita la nostra morte eccetera e bisognerebbe tutelarli bisognerebbe formarli adeguatamente dovrebbe esserci collaborazione invece niente è vero susanna però non è fortunatamente non è sempre così insomma io ho dei medici di base che mi mandano dei pazienti non solo anche degli psichiatri che mi mandano dei pazienti anche se ovviamente questa cosa è rara è molto più probabile che me lo invii un fisioterapista un paziente che non uno psichiatra o un medico di base perché perché nel loro modello il loro modello di cura funziona così c'è un eziopatogenesi cioè la derivazione di una malattia ben chiara cosa significa che tutto il loro lavoro deriva da diagnosi ricerca dell'eziopatogenesi prognosi e cura senza questa senza questa diciamo così catena non c'è la medicina in altre parole prima cerco di capire perché stai male poi una volta che ho capito perché stai male cerco di trovare una cura per questo perché è una volta che l'ho trovata il gioco è fatto ho trovato la cura per la peste e ho curato milioni di persone ho trovato la penicillina e oculia ho curato milioni e milioni di persone per cui è un modello che funziona benissimo ragazzi ha estirpato le epidemie le epidemie più pesanti dal nostro pianeta non possiamo dargli torto allo stesso modo però sono anni 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 anzi secoli che loro si trovano di fronte a dei mali che non hanno questa eziopatogenesi ben precisa tanto che un tempo si chiamava tipo male senza anima male senza agente patogeno male hanno trovato tanti modi fino a 300 400 anni fa era facile pensare quello lì è posseduto c'è il diavolo dentro e quindi sai facevi così c'era il diavolo e via poi siamo arrivati in un punto diceva quello lì c'è il cervello che non funziona un periodo meccanicista e allora basta dare un colpetto qua e là magari sul lobo frontale e non ci sono più problemi quella persona smette di stare male ma smette anche di essere una persona e poi arriva la moderna psichiatria e arriva santo freud a curarci tutti arriva freud a dire ma sapete in realtà io ho scoperto che se ci parliamo con quelle persone alcune di queste guariscono e via e da lì cambia tutto eccoci qua allora un po di interazione ciao carolina buongiorno ecco monica grande monica diciamo che la vecchia guardia dei medici di base sono fermi all'approccio biomedico hanno ignorato l'oms e la nuova definizione di salute ovvero non assenza di malattia ma piuttosto una condizione biopsico sociale esattamente di benessere aggiungo io alle parole della collega monica assolutamente è vero e non è solo quello monica è anche il fatto che ignorano la differenza epistemologica tra sistemi di ricerca che cosa intendo che loro sono convinti che la loro sia più scientifica della ricerca in psicologia ma le cose non stanno così un qualsiasi filosofo dell'epistemologia sarebbe qua a mostrarci che i metodi che utilizzano loro non sono diversi da quelli che utilizziamo noi sono metodi statistici e il motivo è semplice perché lavoriamo con la vita una delle cose meno prevedibili che esista sul pianeta terra come diceva appunto gregory bateson se io do un calcio ad una pietra questo prende la mia forza e riesco anche a misurare quanta strada potrebbe fare in base alla forza che gli imprimo se do un calcio ad un cane questo si gira e mi morde la vita è completamente imprevedibile ed è per questo che lo strumento della scienza chiamiamola dura la scienza del 1600 non può essere applicato così come è alla vita ed è per questo che abbiamo delle scienze della vita all'interno delle quali rientrano tranquillamente la psicologia l'antropologia eccetera anche se oggi le chiamiamo scienze sociali fanno parte delle scienze della vita ciao a niente be ciao quindi ragazzi questo è un po il tema il tema è che ci sono dei medici che per sentirsi sicuri di ciò che fanno pensano di essere scienziati e che quindi fanno una cosa e danno una causa effetto ben precisa questo l'ira serena l'ira sicura ma in realtà sotto sotto sanno che non è così quindi abbiamo diciamo così il piede in due scarpe tutti quanti da un lato ci affidiamo alla ricerca e pensiamo che questa sia la strada più corretta dall'altro lato questa ricerca molte volte non è adeguata all'essere umano che è continuamente in modifica che cambia continuamente che risponde in modo diverso in base alle molecole che noi inseriamo eccetera e che quindi tale imprevedibilità li guidi a cercare invece la prevedibilità più assoluta quella scientifica oggi ovviamente messa seriamente in discussione dalle svariate minchiate che si trovano in giro sì ragazzi perché le vere minchiate che ci sono in giro scusate la terminologia sulle dalle quali dovrebbero stare attenti i medici non sono quelle che fanno gli psicologi che pure ci sono è perché non è che gli psicologi siano dei santi anche loro fanno cavolate ma il punto centrale è che le cavolate arrivano in varie in varie modalità cioè arrivano da è capito l'omeopatia le energie esterne l'esoterismo i veggenti la magia e voi non sapete quanta gente vada ancora dal mago vada ancora da dal veggente in certi casi hanno tutta la mia comprensione o male incurabile magari se provo tutte le chiese ma proviamo anche la pranoterapia i cristalli e non lo so qualsiasi cosa tuttavia se io vengo attaccato continuamente in questo modo attaccato ma comunque viene messo in discussione il mio sistema di riferimento è chiaro che io tenderò negli anni a chiudermi sempre di più fino a dire quelle sono tutte cazzate comprese quelle psicologiche perché assomigliano tanto alle cose parascientifiche alla luce all'energia piuttosto che dire mi apro perché mi rendo conto che la psicologia c'entra tantissimo allora dovete sapere che questo nostro discorso è un discorso che facciamo da tanti anni noi psicologi tanto che hanno fatto delle ricerche su questo discorso buongiorno sabrina ciao genna bello questo argomento grazie mille e hanno fatto tantissimi studi ora non vi do i numeri e i dati ma sappiate che qualche anno fa ad esempio il sistema sanitario londinese l'ncas ha decide di investire miliardi di pound sulla sulla psicoterapia l'investe e cosa scopre scopre che ci guadagna scopre che c'è un guadagno a fine anno qual è il guadagno il guadagno è di quei due terzi di pazienti che vanno dal medico che in realtà hanno patologie psicologiche o hanno problemi psicologici o hanno paura di avere problemi psicologici e con una semplice chiacchierata o qualche chiacchierata con lo psicologo unito a diciamo così a sistema sanitario naturale fanno risparmiare soldi soldi di visite specialistiche soldi di farmaceutiche soldi di diagnostica quindi di risonanze e quant'altro stesso esperimento l'abbiamo fatto anche in italia l'abbiamo chiamato lo psicologo di base io ho avuto la fortuna di collaborare con uno dei promotori italiani marco nicolussi con cui ho lavorato per tanti anni ci ho fatto il tirocinio eccetera eccetera e ho visto ho guardato i dati dati alla mano anche in italia abbiamo nella sperimentazione abbiamo risparmiato un botto di soldi come mai perché perché è vero perché deve esserci una buona collaborazione tra mente e corpo e oggi lo sappiamo bene e chiunque lavori nei casi più estremi lo sa molto bene chiunque lavori e abbia avuto a che fare con malati terminali malati oncologici sa bene quanto il morale faccia tutta la differenza del mondo lasciarsi andare di morale significa avere un decadimento molto più rapido del corpo e viceversa anche quindi sentire di poter andare avanti avere un obiettivo nella vita cercare di guardare avanti fanno l'esatto opposto danno energia e carburante fisico al nostro corpo ora oggi qualsiasi neuroscienziato che conosca bene il funzionamento del nostro cervello sa bene che oggi ora mentre tu mi ascolti in questo momento se stai imparando qualcosa di nuovo si stanno creando delle nuove molecole nella tua testa mentre tu ascolti le mie parole si stanno creando delle nuove molecole nella tua testa che creano dei nuovi filamenti nei dendriti dei tuoi neuroni che si muovono fisicamente alcuni vengono persi perché magari abbandoni delle idee magari credevi che la medicina fosse scientifica al mille per mille e inizia ad abbandonare questa idea quei dendriti decadono e se ne formano di nuovi cosa significa che il confine tra psicologico e fisiologico e biologico non c'è le mie parole stanno facendo esattamente la stessa cosa che farebbe un farmaco una molecola dentro al tuo corpo e qua ci vorrebbe una bella musichetta no tipo new age tipo new age è chiaro ovviamente che non è direttissimo come l'effetto di una molecola dentro il nostro corpo ma in realtà nel nostro cervello le cose vanno più o meno così pochi sanno che i farmaci che assumiamo anche per il nostro cervello come gli psicofarmaci in realtà non entrano nel cervello arrivano in quella che si chiama barriera ematoencefalica una barriera che protegge il nostro cervello dagli intrusi del nostro sangue e alcune riescono a passare ed altre vanno nel nostro cervello e chiedono al cervello di comportarsi in un certo modo la stessa cosa fanno le mie parole le mie parole arrivano c'è una barriera che sono le tue convinzioni quello che tu credi eccetera quando alcune di queste convinzioni riescono tra virgolette a modificarsi ecco che il tuo cervello inizia a modificarsi di conseguenza quindi ragazzi è proprio vero che non abbiamo una distinzione tra mente e corpo ben chiara ora detto questo è chiaro che tra i mille 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 tecniche di psicoterapia che esistono i mille mille personaggi che non sanno fare bene questo lavoro ne abbiamo parlato ragazzi ne abbiamo parlato ok cosa succede e qua andiamo un po di storia della 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 psicologia la psicologia in italia è giovanissima e se tu vai da uno psicologo che oggi ha più di 60 anni è poco probabile che questa persona abbia studiato le tecniche psicoterapeutiche che esistono oggi non perché non perché sia vecchio e vetusto ma perché magari ha studiato tutta una vita un modello che oggi non funziona più e al contrario della medicina in psicologia e in psicoterapia non c'è un grandissimo controllo su le competenze nel senso che non è che domani arriva uno e dice ragazzi far parlare troppo il vostro paziente non serve a niente dovete fargli fare delle cose e la gente smette di usare l'ascolto capite insomma la cosa è molto più complessa quindi la colpa ovviamente non sta nei medici sta in alcuni medici in quelli che dicono i pazienti che questa cosa non esiste allora vi racconterò una storia una storia che mi è capitata tanti tanti anni fa ve l'ho già raccontata ve la riracconto intanto bemo un goccio d'acqua perché sto vi racconto questa storia tanti anni fa torna un mio paziente dopo una terapia venuta davvero bene aveva degli attacchi di panico fortissimi un sacco di ansia facciamo una terapia non so un anno e mezzo circa più o meno e questo ragazzo chiamiamolo marco si sente davvero davvero bene allora torna dopo sei mesi per un follow up torna nel mio studio a mantova in particolare a rivarolo mantovano torna nel mio studio arriva e mi dice guarda sto molto bene ti ringrazio eccetera mi fai quel rilassamento dell'altra volta va bene allora lo rilasso facciamo un po della nostra ipnosica funzionato tanto bene per tanti mesi lui esce dal mio studio tutto contento il giorno dopo mi scrive mi scrive mi dice non sai mi è successa una cosa terrificante praticamente esce dal mio studio prende la macchina in una giornata molto nebbiosa e fa un incidente sappiate che se conoscete quelle zone di rivarolo mantovano non è per nulla sorprendente che con la nebbia si finisca in un fosso è una strada brutta la nebbia ricopre la visuale e quindi è molto facile lui finisce nel fosso e si spaventa molto perché finisce nel fosso praticamente quasi con la macchina nell'acqua capite no al contrario nel nell'acqua insomma mentre lo tirano fuori gli viene un attacco di panico non gli veniva da mesi anzi non gli veniva da un anno probabilmente come il medico lo vede che gli viene attacco di panico glielo dice dice ma scusi ma che cosa è l'attacco di panico in altre parole il medico gli dice ma guardi ma con l'attacco di panico guida non dovrebbe guidare ma guardi sono appena stato dallo psicologo ma cosa dice quale psicologo ma prenda dei farmaci lei non può guidare con gli attacchi di panico deve stare tranquillo con gli attacchi di panico mica guidare in pochi minuti il medico distrugge il mio lavoro di un anno e mezzo quasi lo distrugge quasi perché poi lo recuperiamo più avanti ma lo devasta dicendogli primo sei un disabile non puoi guidare se c'è gli attacchi di panico e questo chi conosce l'ansia lo sa bene è in realtà un rinforzo dell'ansia perché in realtà l'ansia si nutre proprio del tentativo di evitare l'ansia stessa per cui se ti dico che sei un disabile non devi guidare faccio tombola ti metto una diagnosi in testa e ti invito ad evitare ciò che ti fa paura e inoltre all'ospedale gli dico no no guardi basta psicoterapia le devi prendere i farmaci ma ma cos'è sta storia che che vada allo psicoterapeuta ma non scherziamo ma prendi i farmaci questo è successo dieci anni fa più o meno se facciamo otto anni fa però capite un medico di pronto soccorso che la vede in questo modo non so adesso io non lo so se il mio paziente l'ha denunciato ma era molto propenso non credo perché poi non mi ha più chiesto le carte cioè non mi ha più chiesto di fargli una perizia comunque una valutazione che lo aiutasse però per quanto mi riguarda quel medico andava denunciato perché non puoi essere così ignorante in un altro campo che ti appartiene non puoi non sapere come funzionano quelle cose lì e non sapere che gli attacchi di panico hanno un'origine indovine indovinello psicologica raramente rarissimissimissimissimamente hanno una origine biologica non esistono corsi di aggiornamento per i psicologi susana certamente susana che esistono certamente però i psicologi di una volta che non sono psicologi ma sono filosofi che si sono svegliati in un mondo dove esisteva la psicologia ok cioè dove esisteva la psicologia questi sono svegliati hanno visto che c'era una roba che si chiamava psicologia che in realtà era già famosa in tutto il mondo tranne in Italia e si sono ritrovati una professione in mano quindi da filosofi hanno fatto una tesina e sono iniziati psicologi e psicoterapeuti chi è entrato nell'albo chi nell'89 aveva già 30 anni e una laurea in filosofia probabilmente ha iniziato a fare questo mestiere senza saperlo fare ok magari con cose per sentito dire magari perché ha letto tre libri di Freud ha scritto quella tesina su Freud gli è stata accettata al ministero e diventato psicologo psicoterapeuta e molti di questi sono diventati i maestri degli psicologi di oggi ok quindi quella deriva lì quella deriva lì è tutta colpa della psicologia quindi quella di vedere tutto in modo freudiano con tecniche psicodinamiche mi dispiace per i freudiani io mi attacco sempre contro di loro però voi sapete chi fa il mio mestiere lo sa bene che questa cosa qua non ha portato troppo bene alla nostra professione poi dall'altro chiaro c'erano anche i comportamentisti estremi quindi ok quindi detto tutto questo tutto questo cappello introduttivo l'argomento di oggi è questo cioè aiutatemi a far sì che i nostri medici sappiano che in realtà è ormai scientifico che qualsiasi terapia farmacologica è utile e funziona e porta a compimento il suo scopo solo se accompagnata dalla psicoterapia ok sempre no probabilmente esisterà qualche problema di non so mi spavento mi viene un po di ansia prendo assumo un po di psicofarmaco per non so un mese l'ansia mi passa diminuisco lo psicofarmaco e sto bene sì che funziona anche così però è molto molto raro ve lo posso assicurare perché di solito le cose non vanno così semplicemente così direttamente anche perché se andassero così semplicemente direttamente vi posso assicurare che anche la psicoterapia potrebbe funzionare e allora il primo messaggio è per i miei colleghi psicoterapeuti quindi smettiamola di dire subito ai nostri pazienti che hanno bisogno di un farmaco ok questo è un altro errore che vedo da parte dei miei colleghi i miei colleghi che vedono un paziente che sta parecchio male prima seduta beh guardi forse lei avrebbe bisogno dei farmaci no 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 molte volte non sempre molte volte funzionano le nostre tecniche allo stesso modo smettiamola dai nostri colleghi psicologi di aberrare lo psicofarmaco come se fosse il male assoluto ok anche quello non è vero i psicofarmaci molti psicofarmaci di oggi non sono gli psicofarmaci che noi abbiamo studiato ok sono molto più efficaci e se vengono utilizzati in concomitanza con la psicoterapia hanno degli effetti concreti quindi bisogna venirci incontro però è più dall'altra parte che devono venirci incontro più dal lato della medicina che non della psicoterapia perché psicoterapeutici ne sono sempre di più sempre più moderni e hanno sempre più strumenti utili che funzionano ok un attimo di pausa fanno la stessa cosa con la psicosomatica mi scrive Monica assolutamente anche lì la vedono come se fosse una barzelletta ok è idio ma è cosa che dicono è idio aspetta non mi viene in mente il termine comunque avete capito dicono questa patologia è ideoplastica ma non è questo il termine e cosa vuol dire? ebbè vuol dire che non si capisce il non è chiaro da dove arriva no ideo arriva dalla mente cioè dall'idea ok se si chiama così non vuol dire che non si sa da dove arriva ma si sa che arriva dalle tue idee da qualcosa che ha a che fare con la mente e questa cosa qua è molto molto affascinante allora insomma credo di aver esaurito più o meno una mezz'oretta un po' questa diatriba molto interessante per chi si occupa del mio mestiere per chi è interessato per l'altra parte per i medici per il personale sanitario che dovrebbe essere formato in psicoterapia per capire che funziona la psicoterapia se la gente studiasse psicologia come racconto come ho raccontato nell'ultima puntata del podcast non ci sarebbero dubbi sul fatto che ciò che stiamo andando a consigliare noi medici in quel momento ha una propria validità ripeto a questo a scanso di persone ignoranti disonesti truffatori incapaci come in tutti queste persone ci sono in tutti i mestieri tu puoi trovare un avvocato ignorante truffatore disonesto e incapace un meccanico ignorante disonesto truffatore e incapace un ministro ignorante disonesto truffatore e incapace ad ogni livello puoi trovare queste persone le trovi tra i medici tra gli psicologi al di là di tutto questo se mettiamo da parte tutto questo diventa sempre più evidente che sempre più evidente che la psicologia è utile è utile e funziona e funziona di brutto questo non lo dico io lo dice la ricerca quindi chiunque vi dica se siete una persona che va dallo psicologo e va dal medico il medico vi dice quella roba lì è una cazzata dice dottore lei dovrebbe studiare non so se mi spiego lei dovrebbe studiare così se uno psicologo vi dice ah ma quelle cose chimiche le cose dei medici sono delle cazzate anche lì si dovrebbe dire dottore lei dovrebbe studiare quindi come vedete non è non è il puter della mente che ci cura tutto ma non è neanche l'uomo non è neanche una macchina che può essere curata nel modo così assoluto come dice la medicina ma in parte in parte è così cioè la medicina riesce a fare ciò che fa non grazie allo sviluppo delle conoscenze interne del medico lo sviluppo incredibile delle capacità manuali del medico di diagnosi del medico ma grazie alla tecnologia grazie alle macchine sono le macchine che vedono meglio sono le macchine che misurano meglio sono le macchine che vedono i batteri che fanno gli esami istologici che fanno bla 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 che fanno analisi del sangue eccetera 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 la stessa cosa capiterà anche per la psicologia lentamente ci arriveremo anche noi avremo delle macchine che ci aiuteranno a fare il nostro mestiere piano piano con il tempo però prima c'è bisogno che il mondo della medicina quello pop sappia conosca la nostra esistenza e inizia anche un pochettino a foraggiarla cioè inviando delle persone e che sistema sanitario crei voi non sapete quante persone mi scrivono dottore io non ho soldi ho gli attacchi di panico come faccio e io dico ma si rivolga l'asl a casa sua e si ma mi propongono solo lo psichiatra e quello mi vuole dare i farmaci e qua e qua cari psichiatri pure qua stiamo attenti io ho pazienti che vanno dallo psichiatra da anni stanno abbastanza no cioè stanno bene cioè io gli ho già detto oh di al tuo psichiatra di toglierti i farmaci e loro mi dicono si ma lui non vuole non vuole non vuole togliermi i farmaci ma come non vuole ma lo dice non so se ok ok guarda abbiamo una diretta abbiamo una domanda diretta da Jennifer fantastico Jennifer adesso ti rispondo perché perfettamente in linea con quello che sto raccontando allora dottore buongiorno soffro di attacchi di panico da 15 anni e ne ho 33 pratico la meditazione e il training autogeno ma economicamente non posso più permettermi gli incontri col mio dottore 100 euro a seduta che ho fatto per anni c'è un centro qualcuno preparato che possa aiutarmi allora Jennifer è proprio all'interno di ciò che stiamo dicendo in questo momento esistono nelle ASL dei dottori illuminati ma bisogna cercarli e bisogna parlarli chiaramente in altre parole se tu allora innanzitutto fai il tentativo di andare all'ASL perché ci sono dottori bravi che ti possono aiutare quindi per prima cosa vai all'ASL di casa tua purtroppo come sto raccontando cara Jennifer non è facile trovare questi medici e non è facile trovare la psicoterapia convenzionata che esiste ragazzi esiste però non è così facile e molte volte questi psicoterapeuti convenzionati sono grandi tanto grandi abbastanza grandi adulti da rientrare in quella categoria di psicoterapeuti di cui parlavo precedentemente ripeto anche tra loro c'è qualcuno di bravo ma certamente c'è qualcuno che studia ma sicuramente ma anzi forse quasi di più di quelli che di quelli privati perché quelli all'interno dell'ASL devono fare continuamente corsi di aggiornamento e dimostrarlo anche noi dobbiamo farlo ma non è ancora chiaro come dobbiamo dimostrarlo però a parte questo quindi Jennifer il mio consiglio è quello di cercare nell'ASL a casa tua quindi cercare anche associazioni che si occupino di questo e e e cercare anche nei dintorni e chiedere a loro direttamente di farti aiutare in questo senso ti basta dire esattamente quello che hai detto a me magari non dirgli che fai meditazione e training autogeno perché ok io ragazzi non è che voglio fare pubblicità ai miei prodotti ma io ho un prodotto che si chiama dall'ansia alla serenità costa costa 90 euro 97 costa come una seduta dal tuo vecchio psicologo e per me vale molto di più di una seduta dallo psicologo però ok è un altro discorso qua si mi sto facendo un po' di pubblicità sto facendo pubblicità ai miei prodotti però quello non sostituisce una psicoterapia sicuramente Jennifer per cui vai all'ASL informati cerca vedrai che trovi qualcuno ultimamente ci sono delle associazioni di categoria nelle città come Milano Roma se non sbaglio forse anche qua a Padova ce n'è qualcuna dove gli psicologi si mettono insieme e cercano di offrire della psicoterapia ad un prezzo molto molto basso e questo può aiutare tantissimo quindi Jennifer vai in bocca al lupo e comunque se vieni sul mio blog e scrivi ansia troverai tanti consigli gratuiti allora grande Eleonora ciao Eleonora ciao sono molto d'accordo con te da psicoterapeuta ho perso mesi fa un paziente con cui stavo facendo un bel lavoro per la sua ansia è andato dallo psichiatra perché voleva assolutamente un farmaco quando la sua ansia non era così forte lo psichiatra le ha detto che il suo sintomo era assolutamente da farmaco che la terapia non le avrebbe aiutata ho ancora rabbia quando ci penso e immagino Eleonora sulla base di che cosa poi ha detto che la sua ansia era così pensa che una volta io ho parlato con uno psichiatra che mi ha detto eh no ma guarda che l'angoscia tu mica la puoi trattare Bellini Bellini l'angoscia non la tratti con la psicoterapia io l'ho fatto si vede che si vede che non sapendo che non potevo trattarla l'ho trattata lo stesso con successo ma Bellini si è stato fortunato perché l'angoscia mica la tratti con la psicoterapia l'angoscia va trattata con i farmaci ragazzi gli psicofarmaci sono giovanissimi non so se lo sapete ma gli psicofarmaci hanno 50 anni di storia e dire che uno psicofarmaco è l'unico modo per guarire è come non so è davvero adesso non vorrei mettermi qua a parlare di che cosa è uno psicofarmaco e di che cosa fa nel cervello delle persone ma è ovvio che non cura non cura la depressione non cura l'ansia lo psicofarmaco non è lo psicofarmaco che cura l'ansia facciamo l'esempio classico di cui stiamo parlando l'ansia non è lo psicofarmaco che cura l'ansia lo psicofarmaco fa sì che la persona non senta i sintomi questo fa sì che la persona smetta di evitare affronti la vita e affrontando la vita si cura è la vita che cura il paziente non è lo psicofarmaco lo ripeto è la vita che cura il paziente quindi il suo prendere se la persona prende lo psicofarmaco e non si muove da casa non guarirà mai no non so se è la vita che cura il paziente quindi se io riesco a convincere il paziente ad andare in macchina senza il farmaco faccio la stessa cosa che fa il farmaco al paziente costa di più cazzo se gli costa di più non solo in termini economici Jennifer perché anche io chiedo una cifra come quella lì tantissimo per una persona che magari non ha un lavoro non solo per quella cifra lì gli costa emotivamente molto più difficile molto meglio prendere un farmaco però la sorpresa delle sorprese è questa è che se col farmaco comunque non hai la predisposizione psicologica per affrontare le cose non guarisci lo stesso l'ansia non diminuisce lo stesso e anzi in molti casi il farmaco dopo un po' non funziona io avevo un paziente il caro 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 paziente che a volte ci ascolta quindi chiamiamolo Marco anche se non si chiama Marco e Marco aveva paura di tutto aveva paura dell'altezza aveva paura di affogarsi mentre mangiava aveva quando si sedeva al ristorante doveva mettersi in un angolino aveva le vertigini aveva paura di inciampare mentre camminava non veniva nel mio studio a Padova perché ero perché sono al terzo piano è troppo alto non prendeva il treno non faceva i ponti con la macchina prendeva 80 gocce di Xanax tutte le mattine 80 è venuto da me abbiamo fatto un lavoro lunghissimo e l'80 il 90% delle sue paure sono svanite è andato a Disneyland Paris con la famiglia in aereo fai conto non veniva al secondo piano veniva è venuto per qualche mese da me a Padova in macchina da solo da Mantua anzi dalla campagna mantovana tra l'altro stiamo parlando di una persona con quattro coglioni scusate la terminologia stiamo parlando di un ragazzo che nonostante tutto quello che vi ho raccontato ha costruito un'azienda che guadagna probabilmente come tutti i presenti in questa live immessi insieme ok quindi anche il punto di vista medico che il matto è matto è molto diverso da come lo immaginiamo comunque questo è per raccontarvi e questo ragazzo prendeva una quantità di farmaci mostruosa non gli serviva niente gli è servita la nostra psicoterapia lo diciamo proprio molto chiaro e se ci fosse lui qua lo direbbe urlandolo ok assolutamente Lobster hai perfettamente ragione una base di conoscenze in psicofarmacologia non farebbe mai male ad uno psicologo clinico anche solo per comunicare con gli altri specialisti ciao ciao Lobster certo io sono completamente d'accordo infatti ho seguito dei corsi di psicofarmacologia nella mia scuola di psicoterapia e anche successivamente per cercare di capire come funzionassero davvero bene gli psicofarmaci e come lavorarci insieme uno dei miei maestri che era uno psichiatra diceva ragazzi noi facciamo due mestieri diversi quando veniva a insegnare a scuola diceva noi facciamo due mestieri diversi a noi psichiatri ci piace vincere facile avete presente bonci bonci bonbonbon tu 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 no terribile che una roba del genere resti in testa ma è così è un altro sport perché una cosa è vedere una persona sofferente e dire ok sta soffrendo ok aumenti le gocce arrivederci e un'altra cosa è stai soffrendo raccontamelo cos'è più difficile? dare il farmaco o raccontamelo? e beh è ovvio è ovvio che raccontamelo è ovvio è ovvio detto questo come dice Lobster e come sto dicendo dall'inizio di questa live ragazzi tutto quello che sto dicendo non è contro i medici ma è contro contro quei medici che non credono nel valore della psicoterapia che è diverso e allo stesso modo è anche contro tutti quegli psicologi o psicoterapeuti che dicono che la psichiatria è inutile o meglio la medicina è inutile la psichiatria è inutile potremmo parlarne potremmo parlarne anche gli psichiatrici odiano voi dovete sapere ragazzi che in realtà siamo noi psicologi che abbiamo invaso il campo degli psichiatri non il contrario e l'abbiamo fatto con una violenza con una violenza molto affascinante perché affascinante la violenza con la quale l'abbiamo fatto perché è un po' come se un meccanico facciamo un altro esempio immaginate un meccanico che per anni aggiusta le macchine no? per anni aggiusta le macchine il meccanico con che capacità con quella capacità empirica di capire come funziona mettere le mani vedere le cose poi a un certo punto arrivano le auto moderne che funzionano con delle centraline sono sempre più elettriche e allora il meccanico ha bisogno quasi di un ingegnere informatico accanto tanto che più le macchine progrediscono più si restringe il lavoro manuale del meccanico empirico che guarda da martellate e stringe viti e invece aumenta il lavoro del meccanico che deve saper lavorare sull'elettronica della macchina e piano piano quell'altro meccanico va in pensione e arriva l'altro meccanico quello nuovo l'ingegnere questo è quello che è successo nella psicologia e nella medicina fino all'avvento di Freud l'idea c'erano già tantissime teorie sul trauma in particolare c'era un genio uno psichiatra che si chiamava Pierre Jeannet che aveva già capito tutto così come i greci che avevano già capito tutto ma già Pierre Jeannet aveva già capito tutto ed è stato il maestro di Jung per intenderci e Pierre Jeannet già inizia a parlare di trauma inizia a parlare di inconscio inizia a parlare di identificazione con i propri problemi disidentificazione insomma un vero genio che inizia già a capire quant'è importante l'aspetto psicologico oltre a quello biologico e qua scoppiano delle dietribe è biologico non è biologico è Charcot è Bernheim è Bloyer e poi arriva Freud arriva Freud e dice ok io ho inventato una cura possiamo chiamarla cura del parlato la talking cure e da lì si apre un mondo cioè al punto che gli psichiatri non possono fare a meno di fare il proprio mestiere se non conoscono la talking cure allora capite cosa succede che a un certo punto tutti i meccanici si ritrovano a dover confrontarsi con questi ingegneri informatici e a un certo punto questi ingegneri informatici prendono sempre più piede ma cosa vogliono questi ingegneri informatici mica sono dei medici non so se riesco con questa metafora certo che il paziente si trova tra due fuochi ed è difficile capire da che parte stare certamente Susanna hai perfettamente ragione però funziona così insomma quando la medicina la cura funziona in questo modo qua non capisco che ad esempio nel caso specifico parlavamo di ansia chi è ansioso sta particolarmente male in questa cosa qua perché desidera avere la certezza vuole una certezza qualcosa di sicuro ma nel mondo non c'è niente di sicuro nel mondo della scienza ancora meno nel mondo della medicina e della psicologia ancora meno e questa è la verità è chiaro che se uno non le vuole sapere dice guarda io non voglio sapere niente mandami dallo psichiatra mi dai il farmaco io sto bene punto non voglio sapere niente non voglio sapere come funziono non voglio sapere niente c'è un farmaco che mi fa andare a lavoro stesso dammelo e quello c'ha ragione non è che ah mi sono saltato l'ho visto adesso scusami Agnette B molto interessante ma una domanda che non c'entra nulla anzi due e allora non le leggiamo andiamo con le domande che c'entrano mi sa che questa metafora te la rubo di sana pianta efficacissima grazie Robster mi è venuta in mente adesso quindi sappiate che voi fate parte di questa della costruzione metaforica del meccanico e dell'ingegnere elettronico però è vero è così è così e poi l'ingegnere elettronico a un certo punto dice ah sì guarda che quello che studio io funziona bene è inutile che dici che funzionano solo le tue robe caro meccanico funzionano bene anche le mie cose allora i meccanici si arroccano nella loro cercano di e no 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 scopriamo l'olio che funziona meglio questo olio questo olio questo funziona questa botta in questo punto funziona meglio ma c'è l'ingegnere che dice tu hai ragione a sbatterti dal tuo lato però sappi che l'ansia la depressione non vengono perché c'è qualcosa di rotto o raramente vengono perché c'è qualcosa di rotto molto più probabilmente avvengono perché usi male la macchina e allora posso insegnarti a usarla meglio e sì ma io se c'ho la gomma giù se c'è la gomma giù bisogna cambiarla quella gomma bisogna fare qualcosa di medico ok però una volta se la macchina funziona bene mi sa che l'unico modo è capire come si guida non è capito capire come si guida capire come sono i pattern informatici dell'ingegnere all'interno della macchina altrimenti non non andiamo da nessuna parte pensare che il problema della macchina è la qualità dell'olio che ci metto dentro è è esagerato è altro che metonimia altro che si ineddoche è una figura retorica è la parte per il tutto è molto di più è molto di più se io penso che la serotonina è la felicità non so se è questa l'analogia che sto cercando di fare se penso che la serotonina significa felicità allora allora tanto vale che imbombardatemi di serotonina non devo più fare esperienze nella vita invece la serotonina mi serve nella vita perché mi fa fare le esperienze perché c'è la serotonina perché questo mi porta a fare esperienze non so se riesco a io ho trovato molto interessante dice Sabrina approfondire meccanismi di produzione naturale della serotonina dei neuromediatori e degli ormoni preposti al regolamento del tono dell'umore molte persone ignorano il fatto che facendo movimento l'umore sale naturalmente o meditando o anche solo sorridendo ci sono studi che dimostrano che questo fatto e la maggioranza dei medici non consiglia nessuno di questa attività prima di prescrivere il farmaco lo stesso per tutte le pratiche e abitudini consigliate dalle ricerche in psicologia positiva c'è tanto da fare per informare controcorrente e la collaborazione fra professionisti è vitale grazie mille Sabrina sono completamente d'accordo completamente d'accordo guardate ieri sono stato a questo evento della project Invictus ragazzi appassionati di fitness guardate project Invictus sono davvero meravigliosi sono delle belle persone mi sono trovato benissimo uno dei temi era che se arriva un paziente e questo è un medico che parla sul palco e dice se arriva un paziente con il diabete io non solo gli devo dare la cura diabetologica che adesso scusate ma sono ignorante su tutti ma io devo dirgli tu da oggi in poi dovresti mangiare così e così muoverti così e cosà evitare questo e quest'altro ora non vorrei entrare in dati personali però io sto vivendo una situazione sanitaria nella mia famiglia importante nessun medico ha detto al mio familiare cosa mangiare come muoversi eccetera anzi se ne sono sbattuti allegramente di questo aspetto molto importante quindi è una cosa che mi tocca davvero da molto vicino questo aspetto per quanto mi riguarda è fondamentale non dare per scontate a quell'aspetto lì perché se io ti dico semplicemente prendi il farmaco e basta ti tratto davvero come se fossi la macchina che magari ha le gomme sgonfie e io penso che mettendoti la benzina giusta vada no bisogna lavorare anche sulle gomme bisogna lavorare sul movimento sulla prescrizione alimentare e uno dice eh no ma la dieta mica ti cura siamo d'accordo che la dieta non ti cura ma se mangi meglio questo fa una produzione naturale come dice Sabrina di neuromediatori degli ormoni cioè ragazzi stiamo parlando di cose che si sanno è scientifico non è non sono cose che appate in a eh ma quanta roba bisognerebbe fare non è quanta roba bisognerebbe fare quante educazione perché se tu alle superiori studiassi queste cose che non sono difficilissime non sono più difficili della trigonometria se studiassimo queste cose a livello di prevenzione di di come funziona il corpo eccetera una questo arriva studia all'università che già sa che è così già sa che quando si parla di diabete bisogna parlare di resistenza insulinica e quindi il movimento è importantissimo che l'esposizione alla luce è importantissima che le relazioni sono vitali che la nostra capacità di restare nel presente è fondamentale eccetera 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 la macchina olio non olio componenti elettronico meno va comunque guidata hai perfettamente ragione lobster è così questo è quello che succede non siamo come non siamo delle provette in cui uno inserisce delle sostanze chimiche e queste reagiscono ci piacerebbe ci piacerebbe la bacchetta magica ragazzi 45 minuti non ho risposto neanche a una domanda di instagram vediamo un po' vediamone qualcuna tanto nel frattempo mi avete bombardato di messaggi in privato benissimo allora vediamo un po' devo andare nell'archivio se avete domande qua io come sempre do la priorità alle domande che sono qua non lo trovo più aiuto dov'è l'archivio scusate eccolo qua ok intanto avevo registrato un metalogo di Bateson in caso fosse arrivato a amazon ma mi sa che non c'è più bisogno magari ve lo inserisco in qualche puntata magari lo metto come audio nota in come si chiama telegram ragazzi sto provando a usare telegram no è un casino non ci capisco niente non ci capisco niente in telegram vediamo un po' tra l'altro dalle vostre domande ragazzi mi date delle idee incredibili cioè voi non sapete quante cose mi insegnate eccole qua le domande domande assurde tipo problemi di coppia no non ne ho grazie la domanda è così è problemi di coppia punto di domanda ok buongiorno dottore Gennaro è tempo che non l'ascoltavo sempre piacevole grazie Carmela invece il cuore che ho pubblicato è di Dario Silvestri cambieresti qualcosa dei colloqui di lavoro se sì cosa allora caro Antonio non lo so perché io non faccio colloqui di lavoro però prima o poi intervisterò la mia amica Angela che si occupa anche di queste cose ci avevo pensato un po' di tempo fa lei si occupa sia di formazione che di colloqui di lavoro magari ne parleremo però io non so come avvenga un colloqui di lavoro l'ho studiato 157.000 anni fa cioè l'ho studiato nel senso quando ho studiato psicologia del lavoro ho studiato qualcosa del genere ma dubito che sia lo stesso sistema vogliamo un po' di contenuti che hai portato alla convention di project ragazzi è il contrario non è che io là ho portato contenuti che non ci sono occhio a quei cuori vero? vero Riccardo sono è spam vero secondo me eh Riccardo aiutami aiutami a capire tu che sei un esperto secondo me sono giusto è tipo è spam oppure c'è qualcosa di più pericoloso scrivimelo che così lo diciamo a tutti che che utilizzano dovete sapere che ultimamente utilizzano dei bot i i bot sono dei software che vengono messi dentro instagram dentro i social che fanno finta di fare delle cose per aumentare i follower io non li ho mai utilizzati e credo che non li utilizzerò mai magari nel futuro ah sì li utilizzano lo utilizza il mio team per rispondere ai vostri messaggi ma quello è un'altra cosa il bot il chat bot è un'altra cosa questi sono bot truffaldini tra queste cose truffaldini che fanno ultimamente seguono le tue storie e questo Dario Silvestri è una persona famosa io non so che cosa faccia perché caro Dario io non ti conosco mi dispiace però io ho visto che era famoso e poi ho detto qualcuno famoso mi ha lasciato un messaggio sono bot che si sono evoluti vedi vedi e quindi questo si vede che questo Dario Silvestri Dario Silvestri adesso vi dico chi è così almeno lo sputtaniamo no official instagram interpreta un feat la stampa Yahoo Rai News capite c'ha 48.000 follower Dario però utilizza questi trucchi io lo dico io ce l'ho qua ho la prova non è che sto dicendo qualcosa di cattivo però è la verità allora non basta una vita per scoprire tutto dice Sabrina perché a scuola non facciamo nessuna di queste materie importantissime quindi perdiamo un periodo lungo e fecondo durante il quale potremo davvero evolvere in modo velocissimo come esseri umani dovremo cambiare un po' i programmi più psico meno noia sono d'accordo bravissima Sabrina quindi ragazzi insomma a parte l'aspetto bottaro che abbiamo messo alla fine grazie al tecnico grazie a Riccardo che tra l'altro ci siamo visti alla convention di Project Invictus e anzi Riccardo mandami le foto appena possibile così almeno mettiamo un po' di fotine dell'evento che è stato bello piacevole e tutto scientificissimo e questo in mezzo a questa scienza che hanno chiamato uno psicologo e non sono stato così scientifico durante il mio intervento se mi rinviterete Riccardo sarò un po' più geek un po' più nerd come nelle mie corde di snocciolare dati nomi e cose del genere lì ho fatto un po' più lo showman quindi ho cercato in 20 minuti di parlarvi dell'importanza dell'attenzione e niente che dire vediamo un po' ultimo giretto visto che vediamo un po' come si riuscirà anche oggi ok dai direi che domande domande le abbiamo più o meno terminate allora ragazzi la prossima puntata del podcast sarà dedicata al positive childhood experiences che è un questionario di cui abbiamo già parlato che parla delle esperienze positive è accadute nella nostra infanzia e che predice la nostra salute mentale oggi quindi è super interessante mi permette di fare l'ultima considerazione dice Jennifer penso che il suo sapere alla portata di tutti sia un bene prezioso che riesce ad aiutare tantissimo io la seguo da circa 10 giorni e ogni giorno scopro i suoi progetti diversi sono molto d'aiuto grazie mille Jennifer spero che il mio lavoro e il progetto segreto del mio lavoro lo sapete qual è fare in modo che si riesca a trovare delle tecniche di autoaiuto che ci aiutino tantissimo l'esempio che faccio sempre più banale è lavarsi le mani pochi in pochi sanno che lavarsi le mani ha salvato milioni 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 di vite sì una semplice cosa una semplice conoscenza scientifica della ricerca togliamo di mezzo questo termine scientifico parliamo di ricerca una semplice una semplice ricerca che ha cambiato le sorti dell'umana collettività quindi ragazzi che dire siamo arrivati al termine di questa puntata a lobster a proposito di showman fammi gli auguri che mercoledì prossimo parlerò in un locale di dipendenze 2.0 ottimo allora come si dice crepi crepi no come si dice in bocca al lupo ho visto 1500 foto da visionare presto arriveranno ok sono tante 1500 ottimo ottimo grazie a tutti per l'attenzione ragazzi mi raccomando prima di lasciare questa live mettete mi piace aiutatemi a far crescere il podcast di Psynel ci sentiamo lunedì con questa puntata fighissima su queste sette esperienze che ci aiutano per la nostra crescita personale buona giornata a tutti grazie